Allora, qui adesso lasciamo la canzone per entrare in A30. Siamo praticamente tra Caserta e Napoli. Segnali che c'è un A3 chiuso da Cava dei Tirreni verso Salerno, io non mi ricordo se da Cava dei Tirreni la devo prendere, se il pezzo di A3 che prendo io è da Cava dei Tirreni, no, no, non mi sembra, no, perché io adesso dalla A30 entro in A2. Poi dalla A2 rientro in A3 dall'altra parte, ma sono già a Salerno, quindi dovrei arrivare in rapporto a Salerno senza problemi. Allora, a poi. Sono le 2.15 della notte o della mattina, scegliete voi. Sono in autostrada sulla A30, vado vicino al mercato San Severino, completamente solo, quasi. Ci sono tutta una serie di lavori in corso. Allora, un'altra attrazione, è un'altra attrazione. Allora, un'altra attrazione. Allora, un'altra attrazione. fra un'ora mi finiscono le 13 ore di impegno potrei fare le 15 ma tanto se con il navigatore io 20 minuti sono arrivato ma adesso che siano 20 proprio speriamo ci credo poco ci saranno proprio 20 ma comunque avendo un'ora a disposizione dovrei riuscire ad arrivare tenendomi le 15 ore buone per un altro giorno fine dei lavori in corso entriamo nella nostra carreggiata e qua davanti c'è il casello di Salerno della A30 c'è la possibilità di pagare elettronicamente semaforo è verde le apparecchiature del casello come al solito fanno interferenza con il baracchino ok ma poi siamo arrivati praticamente a Salerno non ci sono Grazie a tutti. Lasciamo la A2 e la ritorniamo in A3, solo che stavolta la prendiamo dalla parte opposta. Ancora un chilometro e mezzo. E c'è l'uscita, quella carina. E come esci hai subito lo stop lì. E c'è sempre il rischio che qualcuno dietro ti venga a tamponare. Vabbè a quest'ora un simile rischio non ci dovrebbe essere. Ci sono solo io. Vabbè a quest'ora. Eccola qua. L'uscita senza corsia di decelerazione. Con lo stop appena la imbocchi. Adesso scendiamo verso il porto. E' verso il barco ovest. Sono le due e trenta due. E' verso il barco. E' verso il barco. E' verso il barco. E' verso il barco. giù con il freno motore azionato giusto per non dover toccare i freni tanto a lungo giù con il freno 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 giù con il freno